Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video. Vediamo un sondaggio del 6 di febbraio del 2021 fatto da Index Research per la trasmissione Piazza Pulita. Vediamo che il primo partito è la Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,3% e scende al 24. Il secondo partito, il PD di Nicola Zingaretti che cresce dello 0,4% ed arriva al 19,6%. Fratelli d'Italia, terzo partito, scende dello 0,1% ed è al 16,6%. Segue il Movimento 5 Stelle che perde lo 0,1% ed è al 14,5%. Poi abbiamo Forza Italia che guadagna lo 0,2% ed è al 6,7%. Azione di Calenda guadagna allo 0,1% ed è al 3,8%. Sinistra stabile al 3,7%. Italia Viva guadagna lo 0,2% e arriva al 3,1%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.